Siamo in compagnia del sindaco di Sant'Arcangelo, Mauro Morio. Oggi sindaco, possiamo ancora chiamarla così perché decade a mezzanotte questo mandato, sono stati giorni impegnativi, sono stati giorni in cui davvero si può parlare di terremoto politico. Lunedì sera è mancata la fiducia e sono arrivate le sue dimissioni. Sono passate poco più di 40 ore da quel momento e oggi in questa ultima giornata, tra l'altro da poco la giunta, quali sono le parole che ci può affidare? Intanto grazie perché non è così scontato accettare un'intervista così in queste giornate. Mi sono sempre comportato in modo libero per come il mio carattere, anche in modo diretto nei confronti di voi che fate il vostro lavoro, ma attraverso voi e ovviamente attraverso chi ci ascolta e quindi i miei concittadini, Sant'Arcangelo e non solo. Lo spirito è uno spirito assolutamente sereno. Diceva che erano un po' di mesi che c'erano i mal di pancia all'interno della maggioranza, ricordiamo il caso Aspe, questo ultimo del bilancio che sicuramente è stata la frattura insanabile, però un po' si intrasentiva anche dalle sue parole il fatto che in realtà probabilmente c'è molto altro sotto. Ecco, che partito in questo momento c'è a Sant'Arcangelo? Che partito democratico anche può guardare il futuro e traguardare anche nuovi progetti? Posso dire da sindaco e da iscritto al partito democratico che è un partito che a Sant'Arcangelo raccoglie quasi intorno al 40%, quattro anni fa ha raccolto il 40% del consenso. La dico come l'ho detta in consiglio comunale, quindi davanti alla mia città. Il partito democratico a Sant'Arcangelo deve darsi una bella radanata. Ora uso questo termine tradotto dal dialetto giusto perché facciamo a capirci e però questa volta bisogna che non infili sotto il tappeto della serie, lasciamo correre, lasciamo stare, le cose si sistemeranno. Le cose non si sistemano. Adesso i coci vanno raccolti, c'è una nuova classe dirigente che penso e debba continuare a dare il meglio, però basta infilare sotto il tappeto, se c'è bisogno di sbattere fuori e di raccogliere dopo aver spazzato si butta fuori casa quello che si raccoglie perché occorre fare pulizia via giochini e giochetti alle spalle della città. Il suo discorso dell'altra serie lei ha parlato alla città, chi sentiva di fuori con gli altoparlanti, ma anche poi chi ha letto le cose che lei ha detto. Ecco, che cosa si sente di dire oggi ai Santi Arcangelesi? Che un po', insomma, per quanto uno possa essere di destra o di sinistra, al momento in cui va via il sindaco, un po' ci si sente orfani, perché in teoria il sindaco è sindaco di tutti. Mi piace che non abbiamo avuto il tempo, non perché c'è il commissario, ma perché non è stato approvato il bilancio il 29 scorso, di andare ad attivare quelle gare d'appalto per tre servizi, perché appunto non è stato approvato il bilancio. Quest'anno sono saltati i centri estivi, 130 famiglie, i bambini non potranno andare al centro estivo comunale e questa è una cosa grave per i bambini ma anche per le famiglie, perché non hanno questo servizio. Adesso corrono dei rischi, in quanto non si può fare la gara, corrono dei rischi il trasporto scolastico e i nidi, che quindi adesso il commissario gli daremo una mano tutti quanti, anch'io, per lavorare, per far sì che questo possa accadere, per far riaprire a settembre, se questo non sarà possibile a settembre, si dovrà rinviare ovviamente l'apertura di questi servizi a gennaio e questo sarebbe molto grave. La restituzione della tasse rifiuta ai 600 anziani, non abbiamo potuto attivarla e insieme a questo tante altre cose. Spero che siano solo rinviati, che comunque siano servizi che il commissario prefettizio e noi gli daremo una mano, però adesso la cosa che mi sta più a cuore è che almeno i nidi, il trasporto scolastico, le mense, ci siano le condizioni da settembre per attivare questi servizi per la nostra gente. Con la crisi come c'è in giro, non poter aprire quei servizi vuol dire mettere in ginocchio quelle famiglie ed è questa una cosa che ha messo. Quindi questi dieci mesi che separano rispetto alle elezioni che ci sono il prossimo anno come a scadenza naturale, almeno preservare e garantire questo, non è un appello che faccia al commissario, il commissario che arriverà, spero che si metta nelle condizioni con un bilancio sano come noi abbiamo, di garantire almeno i servizi ordinari. Qualche giorno fa si ha confermato la sua iscrizione al Partito Democratico, che futuro c'è per Mauro Morri all'interno del Partito Democratico e magari anche in vista delle prossime amministrative, insomma sostanzialmente si potrebbe ricandidare Mauro Morri? Da domani io ho sempre avuto un lavoro alla società Castrimini di cui sono dipendente, era un'aspettativa non retribuita in quanto ho fatto il sindaco e quindi rientro al mio lavoro come impiegato nell'azienda privata dove ho sempre lavorato e questa è la prima cosa, come normale che sia, io non ho fatto politica o amministrazione come lavoro, ho lasciato il mio lavoro per questo impegno per la città e riprendo normalmente il mio lavoro, come giusto che sia, non sono un politico o un amministratore di professione. Sassolino da togliersi dalle scarpe visto che mancano… Ma assolutamente non credo, nel senso che le mie scarpe sono sempre state piccole e tengono la dimensione dei miei piedi.